Ecco a voi il barone, dopo una giornata Un probabile dentice Invece tu? Vieni, ok, tieni il barone Faccelo vedere barone, faccelo toccar Ma si vai Dai barone, dai E' da oggi che andiamo arrocciando Eh, però questo lo siamo andati a trovare alla casa In effetti quando hai detto questo può essere un dentice E' partita E' partita la gamba Sei contento barone? Più che contento sono Soddisfatto Soddisfatto, ci voleva, dai Eccolo qua Denticiotto Che giorni è oggi barone? Non so, 30 Domenica Domenica 30 marzo Bravo 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 barone, bravo Possiamo riporre? Assolutamente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti